Io sono Valeria, farmacia Pittella di Lauria, che è un paese in Basilicata e noi siamo venuti a contatto con la Sartore Taverna circa 5 anni fa quando abbiamo ristrutturato la nostra farmacia e devo dire che c'è stato un cambiamento fondamentale, è una farmacia piccola di paese che però adesso è davvero il punto di incontro di tante cose, anche per una magnifica illuminazione, la sensazione di calore che viene proprio dall'arredo, dalle luci, è una farmacia di antica gestione e quindi noi abbiamo conservato insieme ai mobili antichi, qui abbiamo messo quelli moderni, quindi devo dire la nostra esperienza è del tutto positiva. Oggi siamo venuti qui e abbiamo fatto un po' di aggiornamento sui nuovi sistemi di marketing, quindi il nostro feedback è del tutto positivo e pensiamo di continuare a collaborare con la Sartoretto perché è nella nostra stessa filosofia.